Una visita al Museo Horn Nelle sale dove oggetti e opere d'arte sono disposti come in una casa è un'esperienza che permette di rivivere il passato e di conoscere la storia, l'arte e la vita del Rinascimento. Fu Herbert Percy Horn, architetto, studioso e collezionista inglese a scegliere con intuito infallibile i dipinti, i mobili, le piccole sculture e gli innumerevoli oggetti che formano la collezione. Horn, nato a Londra nel 1864, amava l'arte italiana. Nel 1911 acquistò Palazzo Corsi con l'idea di ricostruire la raffinata dimora di un gentiluomo del Rinascimento. Il restauro da lui stesso condotto ha riportato in evidenza le caratteristiche rinascimentali dell'edificio dalle decorazioni architettoniche alla funzione degli spazi. Dopo la sua morte prematura nel 1916 furono i primi curatori del museo a completare l'allestimento della collezione donata insieme al Palazzo allo Stato italiano. La sapiente fusione tra contenitore e contenuto rievoca la vita che si svolgeva nel Palazzo e permette di comprendere interessanti aspetti della vita quotidiana nel Rinascimento. I percorsi di visita all'interno del museo hanno solitamente un carattere tematico. L'approccio è basato sul dialogo tra i partecipanti ed è interattivo e multisensoriale per facilitare il coinvolgimento di tutti. Una visita profumata, punteggiata da esperienze olfattive e piccoli allestimenti, introduce il tema della vita quotidiana nel Rinascimento, dall'igiene personale allo stare a tavola. La collezione di dipinti a fondo oro consente un approfondimento sulla tecnica della doratura. L'osservazione di capolavori come il Santo Stefano di Giotto si completa con un laboratorio creativo. Oggetti e arredi della collezione introducono a percorsi pratici di avvicinamento alle tecniche artistiche tradizionali come l'intarsio ligneo e lo sbalzo. Nell'ambito dei percorsi di conoscenza dell'artigianato artistico fiorentino il museo organizza visite alle botteghe degli artigiani. Il museo Horn si occupa anche della valorizzazione della casa di Giorgio Vasari architetto e pittore di Cosimo I de' Medici che si trova in Borgo Santa Croce. Dalla casa del collezionista Horn alla casa dell'artista con la sala affrescata l'itinerario propone un viaggio nel mondo della pittura. Segni d'arte è il programma rivolto agli adulti alle famiglie con adulti e bambini agli adolescenti con la presenza di un interprete l'IS accanto all'educatore museale. Per conoscere il programma, partecipare alle attività o richiedere l'attivazione di un percorso per un gruppo puoi mandare un'email. Grazie a tutti.